Cosme Tokyo allora terminata 3 a 0 partita che così vista vista dopo sembrava è sembrata facile non era così comunque all'inizio no no non era per niente facile abbiamo giocato una grandissima partita secondo me abbiamo giocato una delle migliori partite di quest'anno e sapevamo che loro avrebbero giocato forte perché con tre punti oggi credo che si sarebbero salvati perché hanno poi due scontri reti le prossime due un dato importante in cambio palla con ricezione positiva è stata una delle gare che abbiamo fatto più fatica non come loro in Murat perché abbiamo fatto bene però loro ci hanno difeso molto perché sono una storia forte sono stati molto molto bravi i ragazzi a approcciarla bene e a spingere una vittoria importante perché con la vittoria di oggi siamo credo matematicamente tra le prime quattro ci siamo conquistati il diritto di giocare il primo turno in casa e da lì in poi sappiamo che possiamo giocare con tutti come è successo insomma credo sia una bella soddisfazione per i ragazzi credo che sia una bella soddisfazione per la società per tutto lo staff e anche per il pubblico credo che siamo una comunità bella solida come si è visto anche oggi e questo è una cosa che ci aiuta molto in campo perché in campo ci sentiamo in campo tutti quanti e questo secondo me fa giocare il primo turno in casa così aiuterà molto altra grande prova di Daniele Sottile intelligentemente ha anche tenuto un po' a riposo Jensen che non era in condizione ottimale ma no a me si sta bene ha avuto un periodo difficile ma sta bene io penso in maniera molto semplice di non essere nessuno per parlare di Daniele Sottile è un argento olimpico e ti fa anche un po' ridere il pensiero, è fortissimo non so cosa dire di altro